Ha segno il tiro con un diagonale che nasce obiettivamente da un errore in fase difensiva ancora una volta però, per esempio che guarda il movimento dei contatti poi lo mette al centro, una deviazione, arriva alla misarda, è così, con un bel piantone di sinistro ha 3-3, praticamente il gol per il La Catania le emozioni da porto campo, Marco Allora ti stavo raccontando Angelo prima della grande esultanza della panchina che c'è stata prima per il gol, ovviamente annullato, poi subito esultanza che si è bloccata chiaramente ci si chiedeva se era realmente fuori gioco, un po' quello che hai indagato tu durante la tua cronaca e poi ovviamente la grande esultanza per questa rete di La Pisalda che è chiaramente...